Lo so, lo so che teoricamente penso che vi abbiamo stufato con questi backovering, ma so anche che non ho mai trovato tutti questi Tozzi in vita mia, non ho mai trovato Tozzi in vita mia in realtà, quindi siamo qui ancora con la pastarella, ancora con il dolce profumato e abbiamo il nostro milione di crediti, abbiamo le nostre possibilità di trovare Marchesio Tozzi, che a questo punto è il mio obiettivo, Ho visto che voglio finire i Tozzi, ne ho trovati 9 o 8, fino adesso non mi ricordo, procediamo, con il mio pacchetto abbiamo 4 ancora rimasti da 25.000, quindi adesso chiaramente in questo mio pacchetto, noi che siamo molto fortunati, troveremo il WorldCut, che dovrebbe uscire info la prossima settimana, buonissimo, sai che per la partire con il Tozzi? Ok adesso chiaramente, chiaramente, noi andiamo, chiaramente, chiaramente, apriamo pure i 15.000, abbiamo trovato il mondo l'ultima volta, dove vai Andrea? Via, guarda la mia, vabbè pure i terra, cacciandola, cacciandola, via, cacciandola, in ogni backovering, ma c'è sempre lui, sempre, questo punto va andare al plato, va così, lo trovo sempre dalle doppioni però Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, ancora un Tozzi, Nazco, va bene, va benissimo, è bellissimo, un altro è israeliano, Nazco, tre doppioni, un altro Tozzi no, non ci sono doppioni, mamma mia, vabbè un up and covering è sempre, perché che dobbiamo fare, che dobbiamo fare? L'ultima volta ha funzionato, adesso chiaramente tu che andrai ad aprire col tuo joystick bianco, incredibile, troverò Ho trovato il figlio di Ronaldinho, io mi ricordavo blu Oddio, 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 bella e roba, quanti ce ne mancano di Tozzi per finirli tutti? E' calcolato che ne abbiamo tra i due dieci, ce ne mancano solo un, 10 barra 11, si Altri, dei, dai, dai, oddio, 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 a parte che non so con nessuno, però ammazzo Vabbè, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, d'accordo, sempre della premier dopo Henderson, pacchetto gratis, chi richiesto? 3 anche oggi Chi richiesta sempre lui il pacchetto oro gratis adesso vediamo un po che succede perché tanto ormai qui non ho più neanche la voce per urlare e ci abbiamo un disagiato 23 di velocità No, questo ci avrà 53 anni questo va beh io mi devo fare un selfie con questo giocatore Cioè scusate un attimo passate su instagram perché dovete il selfie con questo giocatore Non Dai mi ruote se è pagato il pacchetto E vabbè ruote a tutti nella vita Oh le bello l'argentone che ci sta sempre bene gli argentoni stanno sempre bene Lei pure lo prende in testa Perché questa è attivissima comunque 3 3 3 per 2 6 6 sei ma che cazzo perché deve essere per due allora spengo il joystick su chiammi il sottopalla destro c'è kline rega kline lo vado a mettere la spring cup si abbiamo metto tutti nella spring cup si infatti tutti i tossi due tozzi in a pack due enderson doppiote porca puttana mamma mia c'è incredibile raga non è normale qualcosa il secondo doppione che trova dopo jackson martinez c'è incredibile che poi non li venderò mai però questa è un'altra cosa cucchia adesso abbiamo arrivato sei toz oggi no non ha detto non sono stata cinque tozzi oggi così tozzo trovato troppi vedi un po quanti ne mancano l'abbiamo trovato pure cosa contando che stavamo a 10 manca tipo 10 tozzo chi sei stirato non ci muscoli a mezzo non ha funzionato valutavo comunque gli stavo dicendo no quanti che notano di tozzi da trovare i miei dei giocati abbiamo ritrovato quello di vediamo dove un certo asti gloria scusate c'eravamo distratti andrea aperto un pacchetto cioè io non lo so veramente probabilmente sarà l'info più scarso della settimana però è un'info contando che potevamo trovare gli ai leature tiago silva abbiamo trovato lui ma va bene così che cazzo voi stai spacchettato t-rex de merda ti saluto amore ebbene abbiamo trovato porco 2 non è normale i soli non è normale i tozzi cazzo oddio abbiamo ragazzi questo per come mi ha giunto al termine abbiamo finito abbiamo basta non penso che prima dell'uscita di verità sono spacchettano più ma l'ho detto ogni volta il primo per coveni che poi continuato regolarmente perché il primo avevamo detto io personalmente non so a quanti like sia arrivato lo scorso per coveni ne avevo chiesti 150 ne chiedo 100 oggi perché abbiamo trovato giustamente i giocatori non è vero ne chiedo 150 anche oggi alla fine fate voi ragazzi se il video è piaciuto lasciate un pollicione in su iscrivetevi al canale se lo vedete già condividete questo video oggi lo fate vedere anche a vostra nonna perché sarebbe troppo banale diretti vostra zia bella il prossimo video